Priorità alla scuola, basta classi pollaio, assunzione di insegnanti precari, maggiore sicurezza fondamentale in questo periodo di pandemia da Covid-19, sia all'interno degli istituti scolastici che sui mezzi pubblici, sono alcune delle richieste rivolte al governo dalle associazioni di docenti e studenti che hanno manifestato oggi in oltre 60 piazze italiane. In Abruzzo le manifestazioni con astensione dalla DAD, la didattica a distanza, si sono svolte a Pescara, L'Aquila e Lanciano. Con Diego Martelli ci troviamo in piazza Sacro Cuore a Pescara dove i manifestanti hanno chiesto la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità in tutti gli istituti scolastici, non oltre il 7 aprile. Sentiamo Lorella Cappio dell'esecutivo nazionale dei Cobas Scuola, Mariella Ficocelli dell'associazione Cidi di Pescara e Leonardo Zappacosta della libera associazione studentesca di Pescara. La prima delle richieste, classi massimo di 20 alunni e 15 se in presenza di un alunno diversamente abile. Questo comporta naturalmente, per avere classi più piccole, abbiamo bisogno di un'assunzione, di un gran numero, di insegnanti, di quei precari storici e anche più giovani, in realtà, che oramai affollano le nostre graduatorie. Terza richiesta, importantissima, investimenti massicci sull'edilizia scolastica. Rendiamo veramente le nostre scuole sicure, non solo dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista degli spazi. Abbiamo bisogno di spazi più grandi dove appunto si possa fare scuola in sicurezza. Noi non vorremmo che si tornasse a scuola dopo questa pandemia e fosse tutto come prima. La formazione dei nuovi docenti e dei docenti che sono a scuola, una formazione di qualità che prescinde dalle tecnologie, pur servendosi delle tecnologie, dove i docenti agiscono la collegialità e dove non ci siano situazioni di verticismo, da cui molti docenti si vedono esclusi. Una collegialità e collaborazione a tutto tondo. Abbiamo deciso di prendere la giornata di oggi come data simbolo per iniziare una rinnovazio scolastica e più in generale quella che pensiamo essere una doverosa riforma del sistema scolastico abruzzese. Queste sono le nostre richieste, poi principalmente vertono ovviamente sul sistema della scuola e si parla di tamponi al rientro e soprattutto di un miglioramento della condizione dei trasporti pubblici, su cui ci siamo già battuti a gennaio. E di fatto non avendo risposta, questa è stata la cosa che più ci ha smosso nel tornare in piazza e quello che ci porterà nuovamente in piazza a breve, quando le condizioni lo permetteranno, con tutti gli altri istituzionali. Sostanzialmente siamo rimasti inascoltati.